Selvaggia Lucarelli si sarebbe scagliata contro Francesca Agnani, co-conduttrice della seconda sera del festival della canzone italiana, ossia Sanremo 2023. Infatti, secondo la giornalista, la collega del mondo, starebbe rivestendo al meglio un ruolo che si troverbbe ad affrontare a fianco di Amadeus. Proprio poche serie fa c'era stata anche Teraferrani, un giorno molto attivo e ogni social ha un sacco di followers, tanto che sono circa 2, 20 o 30 milioni che la seconda. La Fagnani è stata a spalla di Amadeus, in certo una delle serate del festival, la giornalista è apparsa molto spigliata, non troppo emozionata, il monologo c'è stato, l'arrivo dei carceri, ma secondo, Selvaggia Lucarelli, il teatro di Ariston non è il luogo più adeguato. La giornalista su Instagram, ossia Lucarelli, avrebbe scritto che la Fagnani sarebbe stato totalmente a fuori ruolo e Sanremo è la beba più beba di tutte, così l'ha detto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, vi ricordo che anche Francesca Pagnani è molto attiva su Instagram e conta più di 168 mila followers, ad oggi 10 febbraio 2020. Chiaramente questo video non vuole leggere le preosi di Francesca Pagnani, il mio padre Selvaggia Lucarelli, che saluto entrambi, ma informare è stato. Ciò a tutti, una buona giornata. Grazie. Grazie.